Ciao a tutti ragazzi, oggi prepariamo un bellissimo contorno, tra l'altro pure super veloce che sarebbero i funghi trifolati. Vamos! Aglio, prezzemolo, accorcio un po' i gambi e tritiamo tutto assieme, i funghi, affettiamo, non eccessivamente piccoli, olio di oliva, aggiungiamo il nostro battuto, per iniziare a rosolare aggiungo anche i nostri funghi e aumento un po' la fiamma. Aggiungo il sale e mescolo un po' di peperoncino, questo è puramente facoltativo. Raga, da scorsi 5 minuti i nostri funghi sono già pronti, 5-6 minuti al massimo, e per finire aggiungo un filino di olio crudo, li lascio naturalmente ancora qualche istante in padella, di modo che si assorbano l'olio che ho messo ora. e allora raga, questa sera li uso come contorno per i miei hamburger. uno cialdo alessandro, e alla prossima recetta. un po' di più Grazie a tutti.